Ciao a tutti, io sono Cree e benvenuti su Unknown Phone, un breve gioco horror in cui giocheremo nei panni di un giovane ragazzo che dopo una passeggiata notturna sta tornando a casa, ma sulla sua strada trova un telefono. Voi cosa fareste? Lo raccogliereste o lo lascereste dov'è? Diamo un'occhiata. Notare questa bellissima schermata iniziale senza neanche il titolo del gioco e il pulsante impostazioni che è finto. Vabbè, non siamo troppo pignoli. Una domenica sono uscito fuori a fare una passeggiata notturna. Si sentono i passi. Ah, eccoci qui. Va bene, ho camminato per un bel po' di tempo, ora voglio andare a casa. Non si vede nulla in questa strada, eh. Mettete qualche lampione in più, poteva anche non fare male, eh. Magari non camminiamo in mezzo alla strada, dai. Siamo educati, si arriva una macchina. Ehi, che cosa ho trovato qui? Non sarà mica un telefono? Non l'avrei mai detto. Ah, un telefono? Prendi il telefono o non prendi il telefono? Dai, per questa volta lo prendiamo. Poi vediamo anche l'altro finale. Mi sorprende che nessuna macchina l'abbia è schiacciato. Penso che prenderò questo telefono. Ok. Ho un modello nuovo? No, ha solo due fotocamere. Non ha nessun graffio e ha l'impatto. Lo prenderò, ma ora voglio andare a casa. Andiamo in mezzo al buio. Ma secondo me la cosa più furba era consegnarlo alla polizia. Non c'è nessun problema con lo schermo del telefono, ma sembra che richieda una password. Quindi non possiamo usarlo. E ora che vi ricordo, ho un esame scolastico domani. Devo andare a dormire presto o non riuscirò a svegliarmi in tempo. Prima che vado a dormire dovrei spegnere le luci di questa stanza e della camera da letto. Questa luce qua? Altissima questa luce. O siamo noi che siamo bassi? Farei meglio ad aprire la porta della camera da letto prima di spegnere le luci. Giustamente. Questa la camera da letto? No, sembra di no. Beh, abbiamo tre porte, eh. Non arrenderti, i vincitori non smettono mai di provare. Ha ragione. Non si apre? Allora quella la camera da letto. Avevo tre tentativi, eh. E infatti. Ora posso spegnere la luce? effettivamente aveva senso da quella più vicina all'interruttore. Chiudi anche la porta. Non si sa mai cosa può succedere in questi videogiochi. Bene. Va bene. È ora che io inizi a sognare. Con l'esame domani immagino che bei sogni che farai. Un po' di ore dopo. Credo che la maggior parte delle persone al posto suo non riuscirebbero a dormire. Anche il telefono che suona. Che è che chiama quest'ora di notte? Devo andare a controllare? Dov'è la porta, però? Si non abbiamo un telefono? Rispondiamo. Vediamo cosa vogliono. No, non c'è nessuna pizzeria qui. Mi dispiace. Numero sbagliato. Inoltre vi pare l'orario in cui chiamare? Pronto? Che che respira dall'altra parte? Dite qualcosa. Cosa c'è che non va? Vabbè. Se non hanno niente da dire. L'abbiamo buttato per terra? Ah no, è sul tavolo. Sembrava dall'animazione. Farò meglio a tornare nella camera da letto e continuare a sognare. Sì, faremo meglio. chiudi la porta. Non c'è un modo per chiudere la chiave. Da di no. Continuiamo a dormire. Secondo me una persona che ha un esame domani passerebbe la notte a studiare. Chi è? Si è sentito bussare? Andiamo a vedere chi è. A quest'ora di notte. Penso che andrò a controllare. Devo proprio? Possiamo almeno accendere le luci che non si vede nulla. Da che parte del letto sono sceso? No? Non posso? Vabbè. Il nostro protagonista ha una vista da falco. A differenza di me che faccio fatica a vedere cosa c'è per terra. Vorrei capire dov'è l'altra porta però. È questa? Vediamo. Siete niente. Non possiamo affacciarci uscire. No, c'è un muro invisibile. Chi è che bussa la porta? È controlla. È così strano. E richiudiamo. Penso che tornerò nella mia stanza senza chiudere la chiave, eh? Molto sicuro lui. Vabbè, diciamo che ha chiuso la chiave ma noi non l'abbiamo visto. Devo accendere le luci della camera da letto. Ma perché? Si può? Prima non me l'hanno lasciato fare. Ma potevamo accendere le luci quindi. Ok, abbiamo acceso il nulla. Io spero che su YouTube si sia visto qualcosa. Eh? Oddio, basta. Ma che? C'è qualcuno in casa? Si sentono dei passi. Forse era meglio non rispondere al telefono. Che sta facendo? Eh, boh, che si fa? Rimaniamo qua? Non posso aprire la porta, eh? Se ne va? Ok. Devo controllare che cosa è successo. Adesso posso accenderla la luce? No, eh? La porta che ci si apre in faccia. Questo è proprio il momento ideale per dimenticarsi come aprire una porta. Un pezzo di carta? Puoi prenderlo? Mi dispiace che sono entrato nella tua casa senza permesso. Ho provato a bussare alla porta ma nessuno ha risposto. Ma non è vero, abbiamo aperto la porta. Ho rintracciato il mio telefono e ho trovato che era in questa casa. Questo telefono è molto importante per me grazie per averlo tenuto al sicuro. Beh, almeno ci ha fatto lo smile. Ammetto, un po' creepy. Nel senso, una persona che così mentre stai dormendo ti entra in casa. Uno dice, ma che è? Sono dei larri. L'avevo detto io di chiudere nella porta di casa. Sono curioso però di vedere anche gli altri finali adesso. Se ce ne sono. Proviamo a fare anche le altre scelte. Vediamo dove ci portano. Siamo di nuovo qui. Allora, la prima scelta che dobbiamo provare a fare è quella di non raccogliere il telefono. Magari c'è anche qualche bad ending o qualcosa del genere perché la persona era felice che gliel'avevamo raccolto il telefono. Non è che se non lo prendiamo e lo lasciamo per strada si arrabbia? No, non lo prendo. Lo lasciamo in mezzo alla strada. Non prenderò questo telefono. Sono sicuro che il proprietario troverà questo telefono. Va bene, voglio andare a casa ora. Sì, così in mezzo alla strada lo troverai in mille pezzi. E che succede se andiamo a casa senza telefono? Ah, fine del gioco. Beh, bello. Ok. Insomma, morale della favola, se trovate di notte un telefono per terra, non portatevelo a casa, consegnatelo alla polizia. Poi al massimo, se c'è qualcosa di strano dietro, se ne occupano loro. Almeno le persone non vi entrano in casa di notte, ecco. E niente, purtroppo controllato, anche facendo le altre due scelte diverse, si arriva sempre allo stesso finale. La persona vi entra in casa e comunque si porta via il telefono e vi lascia la nota. Non ci sono altri finali. Peccato, non abbiamo mai visto che cosa c'era nell'altra stanza. Ci sono tre porte, una è la porta d'uscita, una è la camera da letto, l'ingresso, che è quello in cui teniamo il telefono, e l'altra porta rimane un mistero. Sarà il bagno, immagino. Casa senza bagno, insomma. Meglio non avere la cucina che non avere il bagno, ecco. Ma io vi dico che per questo video è tutto. Se questo gioco vi è piaciuto, lasciate mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video e seguitemi sia su Twitter che su Facebook, trovate il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ma per oggi è tutto, io vi saluto, ciao!